Grazie per la visione Sì, sì, sì. Vem qua un ira? No, non è da qui oggi, perché è sempre da qui Perché è venuto da qui, a chi è venuto in casa E' un certo punto Ahah... La camera da diecie con ferro No, no, no. Perché è venuto a qui, perché è venuto a qui Alla qua è venuto in casa Alla qua è venuto in casa Alla qua è venuto in casa e meno male aveva un paura di strafio invece da spiaggia ma non ti dico a resta, ridevo, sorridevo dell'ocione pure in corti che parla contro mare, tanto per andare a posto è pericoroso che ti fai a destra al mare, ma è bellissimo, tutto è pericorico nella vita, pure mangiare quando sei aperto muori schiantato perchè sei entrato nell'esopago nel chiamare del respiratorio, è la vita si è stretta tutti gli altri ma è la vista bellissima stai sentito eh? non mi devo saltare il palazzo, è l'ubile per poter muoversi liberamente no no, ogni lato non c'è anche ben sereno perchè a volte si può subire più spese appoggiato sulla sella o a volte no? no, basta che mi seguina è autora poi, mi seguo è un tipo di via ah? come l'indicazione di che se va a chutar di a me che non me la direste? uuuu no 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 no